Lunedì 27 febbraio è stato rinnovato il consiglio direttivo dell'Avis comunale della città di Tolentino qui con noi, ospiti quest'oggi nei nostri studi televisivi la presidente uscente che ha già fatto due mandati Ivana Ciucci e il futuro di questa realtà associativa cittadina, la nuova presidente dell'Avis Lucia Pistacchi Ivana allora che cosa è successo lunedì sera? Sono state rinnovate varie cariche e finalmente tu hai trovato una tua valida sostituta Sì, il consiglio direttivo è stato rinnovato nell'assemblea annuale dei soci che si è tenuta il 18 febbraio poi nella prima riunione del consiglio direttivo sono state elette le varie cariche Io da un pezzo che dicevo che il mio mandato è al termine e cerco un degno sostituto credo di averlo trovato in Lucia perché lei milita nel consiglio direttivo dell'Avis prima di me già c'era prima di me per cui è una persona che dell'Avis sa quali sono i problemi sa come funziona o come non funziona per cui è una ragazza giovane con tanta grinta e credo di aver fatto una buona scelta, anzi ottima direi Lucia sei stata eletta lo scorso lunedì quindi solo qualche giorno fa all'unanimità tutti hanno voluto che tu fossi la nuova presidente come è stata per te questa nomina? Come tutte le cose quando ci si prepara si è pronti e poi si è pronti e non si è pronti mai nel senso che resta sempre una novità restano sempre molti dubbi volendolo affrontare con serietà e con spirito costruttivo uno ci pensa e quindi la vedo abbastanza impegnativa però ringrazio il direttivo e Ivana per la fiducia spero di non deludere nessuno e di poter soprattutto essere io di supporto a tutti i donatori perché i veri principali protagonisti dell'Avis non dimentichiamo sono i donatori